non c'è il gatto salva a tutti i ragazzi benvenuti nella parte scusate stavo dicendo salva a tutti i ragazzi benvenuti in questo video di kh final parte grande non c'è nessuno Non ci riesco a stare così col braccio, mi fa male. Stop un attimo. Mi ricorda, eh? C'è una bambina di due anni. Le isole, non ce n'è una o due. Si gioca, ragazzi. Aspetta un attimo. Cos'hai risposto, te? Ah, sì, io quando ero qua non trovo più niente. Ma dove cazzo li metti? Io non ho mai capito. Dopo devi fare la gara sugli alberi. Come? Non ho mai capito, non ho mai capito. Provaci, te. Ma devi per forza distruggerlo, salverlo. In questi giorni non si è più stoppata la play, giusto? Giusto. Bene. Magari ero pochi elementi, eh? O no? Io ero pochi elementi. Scusate, ragazzi, se mi muovo un po', solo che alcune volte stare un po' così mi fa male al braccio. Madonna. Perché la spalla di legno? Perché la spalla di legno? Perché sono sfigato? Beh, sfigato. Intanto lui si è fatta la spalla di legno. E intanto lui vive senza genitori su una... Sì, è genitori. Non mi sono mai visto. Eh, ho detto... Vabbè. Parla con quello là che ti vuole combattere, là. Ma sai già ai posti dove sono? Certo. Dobbiamo prenderci una telecamera. Giusto? C'è di te 100 euro. Chi? Adesso, ragazzi... La corda... La corda... Il telo... Due legni... Chi è di giro? Se lo può... Vediamo. Oh. Sentate invece che mi andavano i direttori animali. Nuota. L'unica cosa... Una cosa molto bella che mi piace di questo gioco è che ti fanno nuotare. Eppure... Non so cosa... Chi si è sotto? Eh? Chi si è sotto? E vabbè Giorgio è un'isola che c'erano 40 gradi? Chi c'era per vivere lì? Oh no. È tipo un portino. È vero? Non mi ricordavo che potete anche arrampicarsi sugli alberi. Non mi ricordavo. Il cocco ti aveva detto? No. 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 Non perdere tempo. Ci sono già 5 minuti di video. No. 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 Vabbè. Andiamo già a spiaggia. No. Ok, la corda su da dove? Ti manca sulla corda? Noi spero che avrete capito perché si vede un po' male perché stiamo filmando col cellulare Fai in fretta, se no ti scade il tempo Oddio Sono ancora più veloce A chiedere in giro No, combattere un po' più Eh, a chiedere in giro